Salve a tutti e bentornati in minecraft. Allora nello scorso episodio abbiamo realizzato la scoreggia Oddio che cos'è in questo episodio volevo iniziare un nuovo progetto ovvero volevo iniziare a realizzare il nostro hub dell'end Purtroppo però questo mio progetto è stato troncato da subito perché mi sono reso conto visto che oggi è il 7 giugno ed è appena uscito dal 1.12 Che per quello che volevo costruire io mi servirebbe un sacco di black concrete powder Sabbia nera in poche parole ed effettivamente ne ho davvero poca di roba per realizzare la sabbia nera Di sabbia le posso prendere senza alcun problema ovviamente di gravel posso prendere senza alcun problema ma mi mancano molte molte ink sac Quindi il progetto di questo episodio qua sarà quello di realizzare una squid farm E per questa ragione adesso dobbiamo andare in un bel deserto In questo momento ci troviamo nel deserto in cui realizzerò la nostra squid farm Ed effettivamente non è molto lontano da casa Poco più in là dovrebbe essere il deserto in cui farmo sabbia appunto per i vari progetti che realizzo Più in là dovrebbe essere il bioma da caccia dove ho tutte le mie farm E proprio il bioma successivo è la giungla dove ho tutto il mio villaggio e la mia base e tutto Quindi effettivamente non siamo molto lontani Adesso voglio iniziare a fare un bel po' di terraforming per creare un bello spazio piatto dove mettere la nostra costruzione Visto che inizialmente questa costruzione qua doveva essere abbastanza piccola Qualcosa di relativamente grande quanto la squid farm effettivamente Poi mi sono detto hey ma se la facessi leggermente più grande sarebbe molto più figa Poi mi sono detto hey se la facessi leggermente più grande sarebbe un pochino più figa E quindi sono andato avanti così fino a fare qualcosa di effettivamente mastodontico Quindi dovremmo iniziare un enorme progetto di terraforming Oggi è 7 giugno e visto che appena uscita la 1.12 Non c'ho la replay mode per farvi un timelapse di tutto il terreno attorno a me che cambia Questo mi dispiace un pochino Non so se in questo episodio riuscirò appunto a fare un timelapse di alcun tipo Perché per il momento le mode non sono ancora aggiornate per la 1.12 Non lo so sinceramente adesso vedremo Però vediamo quanto ci metto a fare tutta questa cosa qua Perché mi sa che farò molto molto terraforming Vediamo quanto tempo ci metto Yes finalmente abbiamo finito questo cavolo di terraforming Ci è voluto davvero tantissimo Come vedete la zona attorno a me quasi è riconoscibile Perché ho davvero cambiato un sacco di cose Ovviamente il terreno che ho realizzato non è perfetto Perché non ho sostituito tutta la sandstone con sabbia Quindi alcune cose potrebbero essere ancora da mettere a posto Ma chi se ne frega Qua vedete anche tutte le ceste in cui ho messo gran parte da sabbia Non è tutta è probabilmente quella che mi servirà soltanto per il progetto Perché effettivamente molta di questa sabbia qua Qua mi creavo davvero troppe ceste La tenevo tutta in questo posto qua Quindi la maggior parte l'ho pure riportata a casa Però credo che tutte queste ceste qua in base a quello che ho calcolato Saranno quelle che mi serviranno per fare la costruzione tra poco E tra l'altro se volete sapere quanto effettivamente ci ho messo a realizzare questo Cavolo di terraforming qua L'episodio è iniziato all'uscita della 1.12 Quindi se non sbaglio il 7, l'8 giugno Oggi è il 21 Quindi sono stato abbastanza tempo qua a spaccare sabbia Non è stata la cosa più divertente lo devo ammettere Però adesso possiamo passare a qualcosa di un pochino meglio Alto farming purtroppo Come vi ho detto poco fa Dobbiamo tornare a fare un pochino di farming Perché per questa costruzione qua mi servirà anche un sacco di Netherworld block Quindi dovremmo farmare molto molto Netherworld Visto che il Netherworld block richiede 9 pezzi di Netherworld Per blocco E per fortuna abbiamo questa farm gigantesca che mi sono messo da parte per un po' Oppure qualche cesto dentro la base già piena di roba Perché già pensavo di creare qualcosa con così tanto Netherworld Quindi è da un po' che farmo Ma probabilmente per i prossimi giorni dovrò continuare a fare questo Perché effettivamente Ce ne servirà davvero molto Perché gran parte della costruzione richiederà Netherworld L'altra gran parte richiederà sabbia Ovviamente perché comunque siamo nel deserto Quindi appena finita questa cosa qua Possiamo finalmente iniziare il vero progetto Ok oltre ad aver finalmente creato un portale di collegamento Per andare da qua velocemente via la nostra base Visto che ho dovuto fare avanti e indietro molte volte Adesso finalmente ho tutte le risorse raccolte Adatte a costruire questa costruzione qua Come vedete qua tutte le chest con Netherworld block E sandstone e sand roba del genere Probabilmente abbiamo più sand di quella che mi servirà effettivamente Probabilmente abbiamo qualche stack in meno di Netherworld Di quello che mi servirà effettivamente Ma non è un problema Questa è all'incirca la maggior parte delle risorse che mi serviranno Ora invece voglio iniziare a fare Pezzo dopo pezzo gran parte della costruzione Quindi inizieremo probabilmente con il pavimento E qualcosa relativo a quello che c'è attorno Adesso vediamo Comunque finalmente possiamo iniziare Cavolo ce n'è voluto di tempo E qui potete finalmente vedere la causa Del motivo per cui questo progetto è diventato così grande Il pavimento Il pavimento inizialmente volevo fare molto più piccolo di quello che è adesso Però mi è venuta in mente questa forma interessante per il pavimento Mi sono detto E potrebbe venire un pochino meglio se la faccio più grande Ho continuato così E quindi adesso anche i pilastri sono giganteschi Anche il tetto sarà gigantesco E tutte le decorazioni saranno gigantesche Però sicuramente non me ne pento Perché effettivamente mi piace come costruzione Ed effettivamente mi piace soprattutto il pavimento Perché è molto semplice Ma è divertente nel come è realizzato secondo me Quello che cercherò di fare con questa costruzione qua ad esempio È mettere molto meno dettagli rispetto a quello che faccio di solito Mi rendo conto che per molte persone Quello che faccio è un'esagerazione Quindi sto cercando un pochino di Tornare indietro sui miei passi Cercare di trovare un punto di incontro Tra troppi dettagli E un numero decente di dettagli Quindi questo è quello che sto cercando di fare di recente E tra l'altro I pilastri sono così grandi Perché la costruzione deve essere abbastanza Bilanciata e della grandezza giusta da tutti i lati Quindi ovviamente i pilastri non esseranno così grandi Forse potrei cambiare in futuro È l'unica cosa di cui non sono veramente sicuro di questa costruzione qua C'è veramente delle cose un pochino più interessanti Ma non c'ho più il tempo adatto Se no questo episodio qua non uscirà mai Quindi per il momento lo lasciamo così Tanto ci sono alcune cose che vorrei cambiare in futuro Quindi non vi preoccupate È praticamente quello che faremo in questo episodio qua È una costruzione effettivamente finita Ma che potremmo ancora più rifinire in futuro Adesso vedremo Comunque passiamo alla prossima parte del progetto Adesso possiamo dire che effettivamente il nucleo della costruzione Si è in posizione perché ho finalmente costruito la vera e propria squid farm Come potete vedere non è molto grande Ma effettivamente una squid farm non deve essere troppo grande Perché tendenzialmente per quello che ho visto in passato Se ci metti troppe, troppe fonti d'acqua Tende a diventare quasi controproducente rispetto ad averne poche Perché l'idea sarebbe praticamente di avere una squid farm nel deserto Perché a giro del deserto non c'è acqua Quindi ovviamente tutti gli squid del mondo Praticamente compariranno qua E verranno subito uccisi Mi sono reso conto in passato che se metti troppe fonti d'acqua però Tendono alcune ad incastrarsi e roba del genere Quindi non so se in futuro potrei renderla un attimo più grande E cambiare qualcosa Ma per il momento mi sembra che funzioni molto bene E tra l'altro ho poi realizzato 4 ronno dei buchi per terra Perché mi piacevano molto Rendono la costruzione più carina Quindi sì è questo Ora invece dobbiamo trovare un modo per far passare Da tutti quegli hopper là in fondo Gli oggetti che droppano la squid farm Fino a una zona adatta Perché effettivamente questa costruzione qua È tutta completamente estetica La zona dove metterò le ceste è accanto al portale Sì non è molto logica come cosa Però mi piace così Va bene? Ok Sapete no che questo episodio l'ho iniziato con la 1.12 E finora non ho ancora fatto assolutamente niente Relativo all'1.12 Ecco Questo è il mio primo e vero Anzi unico per il momento tentativo di utilizzare I nuovi blocchi della 1.12 Ed effettivamente mi piace un sacco avere queste grandi sfumature dello stesso colore Abbiamo ad esempio la red powder Che è un pochino più sbedita rispetto a un rosso normale Abbiamo la red concrete No aspetta La red terracotta Sto facendo un bel po' di casino in questa roba qua Che è molto più omogenea È molto più rossa Abbiamo la red glaze terracotta Che c'ha pure un pattern sopra Non lo so Comunque a me piace davvero molto questi nuovi blocchi che sono stati aggiunti Ed effettivamente non sono troppo difficili da utilizzare Pensavo fosse un pochino più un casino effettivamente all'inizio Perché durante i snapshot pensavo potessero causare un bel po' di confusione Ma effettivamente no A me piacciono davvero molto E tra l'altro Qua abbiamo la zona del chest Dove arrivano tutti i drop della squid farm E per il momento sono abbastanza pochi Semplicemente perché Non sono ancora stato AFK qua alla farm per farla funzionare Quindi effettivamente questi qua sono solo qualche piccolo drop per il momento E qua invece c'è il portale che ci riporterà Attraverso il nether fino a casa Nether che ovviamente non ci sono ancora nessun tunnel Nessun passaggio per andare a giro senza alcun pericolo Ma non ti preoccupate Probabilmente in futuro lo faremo Inizialmente quando avevo iniziato a fare questo progetto qua L'unica cosa che non mi ero progettato di fare Che non mi era venuto in mente di realizzare È quel sentiero qua E questi archi che ho realizzato Effettivamente questa è la cosa più spontanea Che ho realizzato durante questo intero progetto Ed effettivamente mi piacciono davvero molto Perché danno qualcosa di abbastanza originale alla costruzione Non si vedono molti deserti con archi Con queste cose qua attorno che mi piacciono davvero molto Ed effettivamente se in futuro ampliassimo questo deserto attorno a noi Lo facessimo tutto in questo stile qua Potrebbe uscire qualcosa di veramente carino Però finalmente abbiamo effettivamente anche un passaggio Per arrivare dalla squid farm Fino al portale Fino alla zona delle chest Perché volevo effettivamente collegare le due zone Ma volevo averle anche distaccate Quindi secondo me è stato il modo migliore Per collegarle e tenerele allo stesso tempo distaccate Ed effettivamente Forse è la cosa che mi piace di più di tutto il progetto Il che potrebbe sembrare strano Ma una cosa così semplice come un arco Effettivamente mi piace molto a me Sono un po' strano effettivamente Ora però passiamo alla prossima cosa Vi ricordate che all'inizio del video avevo detto E siamo allentrati nella 1.12 Probabilmente in questo episodio qua non ci sarà un timelapse Perché la replay mode Che per chi non lo sapesse è la mode che utilizzo per creare Le cinematiche e tutti i timelapse che realizzo durante i miei video passati Probabilmente non potremmo fare niente di simile in questo episodio qua Perché appunto la 1.12 è appena uscita E non la mode non è ancora stata aggiornata a questa versione qua del gioco Ma effettivamente ci sto mettendo così tanto a fare questo episodio qua Tra maturità, tra esame, tra tutte queste robe che sto facendo adesso Che la mode è finalmente stata aggiornata per la nuova versione Quindi effettivamente posso fare il tetto di questa costruzione qua Con la mode attiva Facendo un timelapse Ed effettivamente probabilmente sapete già come la realizzerò Perché avete visto la timelapse del video Non vi aspettate che io non sappia che l'avete già vista voi Quindi Finalmente timelapse Non me l'aspettavo Non mi l'aspettavo Non mi l'aspettavo Con questo possiamo finalmente dire che il progetto è effettivamente finito Il tetto era l'unica cosa che mancava E potete vedere che a differenza di quello che ho fatto in passato con altre costruzioni Qua ho cercato di diminuire un pochino i dettagli In passato avrei aggiunto un sacco di variazioni tra la red concrete La red terracotta Tutti le texture rosse del gioco Ma effettivamente mi sono reso conto che potrebbe diventare Forse un po' troppo occupato Un po' troppo stancante per l'occhio Quindi ho cercato di un pochino ridurre questa cosa qua Forse in futuro aggiungeremo qualche altro dettaglio Ma per il momento a me piace così la costruzione Ed effettivamente la costruzione è uscita davvero molto esagerata Perché è molto molto grande E non ce n'era assolutamente alcuna ragione Però se pensate che per questo episodio io abbia finito Non è così Vi ricordate che durante il tour del mondo avevamo annunciato all'inizio del video Che ho nascosto tre costruzioni che non ho mai mostrato sul canale Apposta per il download del mondo Bene Due di queste sono già state trovate Ed effettivamente voglio mostrarvele nei prossimi video Però una ve la mostrerò oggi Questo è il primo dei tre segreti che ho nascosto dentro il mio mondo Ed effettivamente è una costruzione abbastanza grande Inizialmente quando volevo fare queste costruzioni nascoste Volevo fare qualcosa di abbastanza piccolo Ed effettivamente le altre due costruzioni sono Leggermente più piccole rispetto a questa Ma a questa devo dire che Sono un pochino esagerato Come al solito tendo ad esagerare Tendo a fare cose troppo grandi rispetto a quello che dovrei fare realmente Però l'obiettivo di questa torre qua Era praticamente creare una torre assolutamente altissima Che potete rendervi conto che effettivamente è altissima Con l'idea di utilizzare soltanto due colori Volevo utilizzare il grigio e il rosso Fare un bel contrasto Fare qualcosa di veramente Contrastante tra loro Ed effettivamente mi piace molto Da questo punto di vista qua Il grigio è molto buono da utilizzare Perché hai mille blocchi a disposizione Hai cobblestone Hai stone bricks Hai le iron bars Hai gli stone wall Hai davvero tantissime cose da utilizzare Per il rosso effettivamente Così rosso abbiamo stato il netherworld block Potevamo anche utilizzare il red nether brick E a seguito dell'uscita della 1.12 Abbiamo pure potuto utilizzare I nuovi blocchi aggiunti da questa versione qua Però effettivamente all'epoca non ce li avevo Quindi ovvio che non li ho utilizzati Questa costruzione qua intanto è stata scoperta da Pasquale Napolitano Che mi ha mandato un messaggio su facebook Facendomi sapere che Appunto aveva trovato questa costruzione qua E mi aveva pure chiesto se potevo citarlo all'interno del video Quindi complimenti se prima di aver trovato Una delle varie costruzioni che ho nascosto nel mondo Che non è molto facile perché Le coordinate sono abbastanza lontane rispetto al resto del mondo Però effettivamente se ti metti un pochino a volare a giro Vai un pochino a esplorare a caso potresti anche trovarlo Volendo proprio utilizzare programmi esterni per trovare le costruzioni ma Ehi non ci sarebbe divertimento in quello no? Comunque complimenti Pasquale E nel prossimo episodio vi farò vedere la seconda costruzione nascosta La terza non è ancora stata trovata Quindi dovete ancora cercare per bene Dovete scusare il ritardo di questo video qua Ma effettivamente tra l'esame di maturità Che richiede molto tempo Che avrei dovuto studiare molto tempo per l'esame di maturità Ma effettivamente Tra tutto l'esame considerato ho studiato all'incirca Un giorno e mezzo Due Non ho studiato più di quello effettivamente Però nel frattempo avevo comunque tutti i casini da avere l'esame Ho questo progetto qua è gigantesco L'uscita del 1.12 mi ha un pochino rallentato nel che era il progetto Visto che doveva uscire un giorno ma poi è stata rimandata Quindi purtroppo ci ho messo un pochino di tempo Ho potuto iniziare appunto a registrare un po' in ritardo Ci sono stati un bel po' di casini E capite che questo episodio qua non poteva uscire prima di adesso effettivamente Però devo dire che sono molto soddisfatto con quello che ho realizzato La costruzione nel deserto mi piace davvero molto In futuro ci avrei proprio voglia di cercare di continuare a ingrandirla E di creare altre cose attorno ad essa Quindi ci starebbe a creare tipo una seconda base in questa zona qua Non saprei per bene Probabilmente non sarebbe una vera e propria seconda base Ma comunque delle altre costruzioni le vorrei fare volentieri E successivamente anche la torre di Redstone Che a me piace molto e spero piace anche voi Se appunto volete andarla a cercare nel mio mondo C'avete il download nell'episodio 25 Questa qua c'è effettivamente nell'episodio 25 Quindi se la volete andare pure a vedere con i vostri occhi potete anche farlo Quindi Questi progetti sono stati davvero giganteschi Allora è passato un bel po' di tempo dall'ultima clip che ho registrato Tipo un giorno tendenzialmente cerco di Terminare tutto l'episodio velocemente Ma volevo comunque mostrarvi quanto era efficiente la farm Ed effettivamente ho lasciato il personaggio a FK Qua alla farm per tutta una nottata E sono riuscito a riempire due doppie chest di ink Quindi probabilmente nel prossimo episodio riusciremo ad iniziare a fare la costruzione del land Non lo so sinceramente Probabilmente la farò effettivamente perché Ho voglia di costruire qualcosa nel land Ho voglia di utilizzare i nuovi blocchi del 1.12 Quindi quello lì potrebbe essere un buon pretesto Però successivamente non saprete Tipo nell'episodio 29 Non avrei dei veri e propri piani Potremmo effettivamente iniziare a Completare il nether hub Potremmo iniziare a fare degli altri progetti simili Però vorrei comunque la vostra opinione Fatemi sapere cosa vorreste vedere Fatemi sapere che cosa vi piace questa serie qua Ma quindi Spero abbiate apprezzato Spero nel prossimo episodio Ciao a tutti